Buonasera, buonasera, guardiamo benissimo, ordinario eccezionale, io volevo andare alla diretta sul cellulare tramite i comandi del pc perché il cellulare è messo avanti lo schermo del pc E quindi muoveva il mouse per cercare di... Siamo straordinari, siamo un trio da dimenticare, no no proprio da dimenticare, cioè chi ci incontra... Com'è andata la giornata per ieri sera ora? Ma che abbiamo fatto, che abbiamo fatto ieri sera? No, ieri sera a karaoke, tutti cantavano, se la cantavano e se la suonavano Poi di mattina invece gli anziani... ...della serata c'è stata una bellissima sciante, quindi si cantava... qual'è la scuola? ...la carezza in un pugno, no, storia di un amore, di Celentano Ecco, ecco, e c'era un po' le sei che quindi cantava dietro e invece ci doveva fare tutta la scena della canzone Cioè abbiamo fatto il balletto, abbiamo fatto... lei che sarebbe... che lui sarebbe sposata mentre... ...fazziva per me, l'hotel, io la prendeva schiappe, la tiravo dalla parte all'altra... è eccezionale... E invece di mattina... qua un pochettino c'è stato un po' di calma... perché gli anziani sono andati a... ...c'è stato un po' di calma... se non sbaglio... ma anche uno è freddo... Io penso fosse un fiume... invece non lo penso... ...ma fosse un fiume... ...fiume freddo... e invece i ragazzi del... del gruppo... non so... dei ragazzi... ... praticamente stavano preparando lo spettacolo che tra un po' invece si azzingono a realizzare... Tutti hanno scritto un desiderio e l'abbiamo presso nei palloncini... e poi ripariamo i palloncini... ... e poi ripariamo i palloncini... ora lo vado a scrivere... non ti preoccupare, lo vado a scrivere però io il mio desiderio... ... e quattro ore, che anche la vostri... ... ok... ... neanche i vostri desideri si avverano... ... va bene... ah poi finalmente ci hanno dato la casetta... ... dopo che qualcuno ha perso la chiave... ... non diciamo chi... ... non diciamo chi... ... ora in quarta puntata... ... quarta puntata, questa è la quarta puntata... ... ma certo... perché siamo stati quattro giorni... ... azzilazzo... ... ma che puoi ripartare di nuovo... ... se c'è la stanza d'albergo... ... con l'aria condizionata... ... da specificare con l'aria condizionata... ... no veramente è stato... ... ah poi abbiamo fatto il torneo di triscola... ... l'hanno vinto due ragazzi... ... l'ho vinto due ragazzi... ... io ero due... ... infatti era la tua e poi... ... e il coppio ha vinto... ... che sente? ... prende c'era un cocktail... ... mi sono fatto suggerire l'occasione... ... non volevano un litro... ... gli ho detto che era un pochino... ... ci stanno vigilando... ... le magliette sono andate a gogò... ... a gogò... ... senza che noi... ... mentre mangiamo... ... senti senti... ... ma la maglietta della mia misura ce l'hai... ... una maglietta della mia... ... una maglietta... ... una maglietta... ... e io facevo avanti e indietro... ... avanti e indietro... ... salita... ... avremo... ... avremo l'effetto... ... isola famoso... ... cioè famosi... ... cioè... ... ... io ti voglio dimagri... ... e io ti voglio... ... cioè il profilo... ... sparisco praticamente... ... io abril auguro di dimagrire... ... domani... ... domani... ... domani è giornata... ... libera... ... domani si può fare la spesa... ... la coca cola... ... è coca cola... ... a parte che questa è pubblicità occulta... ... bevanda colorata frizzante di colore scuro... ... è coca cola... ... è pubblicità occulta... ... sette... ... la cola... Nella stanza abbiamo mangiato pasta al nero di seppie, nel 1917, poi pasta con ciugno e pancetta, poi le salsicce afficcicate, ma erano tagliate. Era lo stesso caldozzo tagliato a metà, aperto e rottito, era un caldozzo e mezzo, l'ho tagliato a metà, 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 a metà. E come non lo stai facendo? Va bene, qui là c'è uno scatolone, e chi spedisce di lo manco. Questa ragazza è senza speranza, c'è proprio. Poi a tavola aveva avuto ospite Daniele. Sì, no, no. No, Daniele è il figlio di sua madre. È di sua madre. Il figlio di sua madre è di sua madre. La proiettoria è di proiettore. Stanno procedendo prove tecniche di spettacolo. In questo spettacolo praticamente ciascuno di loro interpreta un personaggio, chi un pesciolino, chi la libertà, chi il mare, chi altro, e poi lo metteremo in scena. Dopo che loro finiscono andremo a cenare. Dopodichè faremo la serata dove ripeteremo lo sketch a grande richiesta del... Sei felice? Ripeteremo questo di qua e poi una serata danzata. Quindi a noi non resta... C'è una cosa, ho un'idea per la testa. E' una cosa che mi piace dalla testa. Quindi a noi non resta che dire... Di dare la buona cena, no? E' da parte della Caribbean... Caribbean staff... Caribbean? Carabin? 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 È scomparso Federico? Eh, andati un canto. No, ecco. Carabin... Carabin... Che cosa? Vi stanno facendo questi due. Boi, ragazzi? Uh... Come, come se? Un po' più lungo? Ma sei stato un po' più lungo? Ho provato l'alcolore? Dal Caribbean staff... ... e tutto. Dal Marecara ad Avanthea... che ti salutiamo. Io sono Daniele... Federico... Quile? Ciao! 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 Grazie.